Un'estate sicuramente da ricordare, un'estate bellissima, come volta, e la ripristiamo noi con i colori, come è la nostra, con Wai Mea! Wai Mea che è davanti, in via, che vanno i miei amici, uno, a schiazionatico, poco a poco che vi faccio in live, i nostri bambini a fare così iniziate un lavoro di mare, splendidi, perché qualcuno diceva, non nevica solo a Milano Marittima, se non è vero, giusto? L'applauso per i ragazzi e le ragazze, Wai Mea! A favore dei nostri battagli, Pietro Salenti, che penserà a farli cambiare del tutto. Ancora un brazo, io vorrei, a Cinzia, vieni qua, Cinzia, Palma, vieni qui tu!